Eccoti la Messa del 3 ottobre 2021, nella 27esima Domenica del Tempo Ordinario dalla Chiesa Nostra Signora della Salute in Torino. Buon ascolto e buona preghiera. Benvenuti a voi che siete qui in Chiesa, benvenuto a te che ci segui da lontano. Iniziamo col canto. Grandi cose ha fatto il Signore per noi Ha fatto germogliare fiori tra le rocce Grandi cose ha fatto il Signore per noi Ci ha riportati liberi alla nostra terra Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare L'amore che Dio ha versato su noi Tu che sai strappare dalla morte Hai sollevato il nostro viso dalla polvere Tu che hai sentito il nostro pianto Nel nostro cuore hai messo un seme di felicità Grandi cose ha fatto il Signore per noi Ha fatto germogliare i fiori tra le rocce Grandi cose ha fatto il Signore per noi Ci ha riportati liberi alla nostra terra Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare L'amore che Dio ha versato su noi Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Il Signore sia con voi E con il tuo Spirito L'unione indissolubile tra l'uomo e la donna È sempre stata minacciata e danneggiata Con comportamenti e leggi Che hanno permesso il divorzio Gesù non entra in disputa con i farisei Su questo tema Ma ribadisce il progetto originario di Dio L'uomo non divida ciò che Dio ha congiunto Sentiamoci sempre tutti accolti dal Signore E ci dà il benvenuto nella sua casa In particolare questo benvenuto oggi Il Signore lo vuole rivolgere A Leonardo Lopresti E a Maria Rosaria Lanza Che ricordano Dinanzi al Signore Il loro venticinquesimo anno di matrimonio E noi ci uniamo Alla loro preghiera E al loro ringraziamento In questa Eucaristia poi ricorderemo i defunti In particolare pregheremo per Ciconte e Cecilia Per Gabbia Giuseppe nel quinto anniversario Per Bertolotti Giuseppina E Freigonara Francesco Per Zara Cosimo e Rosanna Per Michele, Grazia, Pasquale, Fedele e Terry Per Nicotera Caterina Cumo Gaetano La Porta Angela Marelli Francesco Cabrera Castro Fernanda Armida Ci uniremo all'intenzione di una persona Che chiede di pregare per lei Secondo le sue intenzioni E offriamo al Signore Tutte le intenzioni che portiamo nel nostro cuore Noi qui in Chiesa E coloro che ci seguono da lontano Oggi Celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte Siamo chiamati a morire al peccato per risorgere a vita nuova Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre Siamo chiamati a cura di Cristo Cristo è lei il Son, Cristo è lei il Son, Chiri è lei il Son, Chiri è lei il Son. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amén. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore figlio oggetto Gesù Cristo. Signore Dio, Agnello Dio, figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Perché tu sono il Santo, tu sono il Signore, tu sono l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Gloria a Dio nei cieli, pace su tutta la terra. Preghiamo. O Dio che hai creato l'uomo e la donna perché i due siano una carne sola, donna loro un cuore sempre fedele, perché nella santità dell'amore nulla separe quello che tu stesso hai unito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Genesi Il Signore Dio disse, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse, questa volta è osso delle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. I due saranno un'unica carne. Parola di Dio Cantiamo insieme, ti benedico Signora nella mia vita. Ti benedico Signora nella mia vita. Insieme Ti benedico Signora nella mia vita. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Nella fatica delle tue mani ti nutrirai. Sarai felice e avrai ogni bene. Ti benedico Signora nella mia vita. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa. I tuoi figli come birgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ti benedico Signora nella mia vita. Ecco come benedico l'uomo che teme il Signore. Ti benedico il Signore da Sion. Ti benedico Signora nella mia vita. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele. Ti benedico Signora nella mia vita. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore, a causa della morte che ha sofferto, perché la grazia di Dio, Egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva, infatti, che Dio è mediante il quale esistono tutte le cose, Lui che conduce molti figli alla gloria, prendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio. Acclamiamo il Vangelo con il canto dell'Alleluia, venite a me. Venite a me, alleluia, vivete in me, alleluia, io sono la via, la verità, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, E cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, Per la durezza del vostro cuore, egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro, Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro, Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, in un accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, ponendo le mani su di loro. Parola del Signore L'Odio per il Signore Cantate con me, alleluia Cantate con me, alleluia Io sono la gioia, la libertà Alleluia, alleluia La bellezza dell'essere famiglia La bellezza dell'essere comunità Credo che possiamo riassumere così l'insegnamento che possiamo trarre dalle letture di oggi La bellezza dell'essere famiglia La bellezza dell'essere comunità Soprattutto là dove sia l'essere famiglia sia l'essere comunità per la nostra mentalità di oggi va un po' in difficoltà a volte va in crisi perché c'è un po' troppo la tendenza all'individualismo e quindi si rischia di perdere i valori tanti valori legati alla comunità Ci sono tante situazioni tante anche leggi che vanno contro la famiglia e quindi si rischia di sottolineare magari giustamente i valori dell'individuo però tralasciando, mettendo in secondo ordine quelli che invece creano legami creano famiglia, creano comunità E' bello sottolineare questo essere comunità e questo essere famiglia Lo raccogliamo dalla prima lettura per esempio dove si parla del disegno creativo di Dio L'uomo si sente solo, trova una similitudine nella donna E il brano conclude Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e diventeranno una carne sola Questo è il disegno di Dio Questo è il disegno creativo di Dio Viene da dire siamo fatti così Siamo chiamati per essere comunità Siamo chiamati per formare famiglia Famiglia intesa anche in senso molto più ampio rispetto a quella che si immagina la famiglia più tradizionale Però essere famiglia, i valori grandi della famiglia L'abbiamo sentito dal Vangelo Al di là del vietare il divorzio Viene proprio da sottolineare questa bellezza e questa grandezza dell'essere famiglia Abbiamo letto nel Vangelo un accostamento tra questo discorso di Gesù che fa contro il divorzio e Gesù che benedice i bambini Può essere che sia un accostamento così casuale nel Vangelo di Marco Però forse è da pensare che questo accostamento sia bello Come dire, nell'innocenza dei bimbi nella trasparenza dei bimbi posso trovare un'immagine della bellezza della trasparenza, dell'integrità dell'essere, dell'essere comunità dell'essere famiglia D'altronde il divorzio che Gesù condanna prima ancora di essere un divorzio nel senso tecnico che già allora si conosceva solo permesso all'uomo, non alla donna c'era un'abbia disparità di genere allora ma al di là del tecnicismo, del divorzio tante volte rischiamo di avere già un divorzio nel cuore un divorzio negli affetti quando sottolineiamo troppo i nostri diritti quando sottolineiamo troppo le nostre prerogative le nostre esigenze e rischiamo di vedere l'altro come uno che deve fare che mi deve far questo, deve aiutarmi in quello quindi riduciamo l'altro a un servitore e invece il divorzio è la parità, è l'uguaglianza è il mettersi magari io al servizio al servizio del tu che mi trovo di fronte e allora benvenga questo invito del Vangelo benvenga questo invito della prima lettura che ci aiuta a mettere sempre in luce l'accento sul tu l'accento sul condividere l'accento sull'amare, sul voler bene benvenga allora la Bibbia che ci aiuta a mettere nella giusta luce il valore della famiglia la bellezza della famiglia la bellezza dell'essere comunità tante volte costa certo tante volte costa il nostro amor proprio tante volte costa questo nostro mondo ammalato di affermare i propri diritti affermare le proprie esigenze affermare le proprie prerogative a volte costa di passare un po' in secondo ordine i miei diritti, le mie esigenze le mie prerogative d'altronde il Vangelo ci parla di amore ci parla di benevolenza ci parla di mettere l'accento sul tu e certamente non mettere mai l'accento l'accento sull'io credo in un solo Dio Padre onnipotente creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo Signore Gesù Cristo un digerito figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero generato non creato della stessa sostanza del Padre per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo fu crucifisso per noi sotto Ponzo Pilato morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e salito al cielo si è della destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i primi morti e il suo regno non avrà fine credo nello Spirito Santo che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo in Chiesa una santa cattolica apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà Amén Fratelli e sorelle in comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo con fiducia figliale al Padre Tenerissimo perché sempre si prenda cura di noi preghiamo insieme dicendo Padre della vita ascoltaci Padre della vita ascoltaci perché la Chiesa in obbedienza a Cristo annuncia a ogni uomo e ogni donna la bellezza del progetto che Dio ha su di loro preghiamo Padre della vita ascoltaci perché i governanti riconoscano rispettino e promuovano i diritti della famiglia realizzando efficaci politiche alle rivolte preghiamo Padre della vita ascoltaci perché l'Italia sostenuta dall'intercessione del Santo Patrono Francesco D'Assisi si presenti al mondo come una terra e un popolo di giustizia e pace preghiamo Padre della vita ascoltaci per noi qui riuniti perché la partecipazione all'eucaristia ci edifichi sempre più come comunità che si fa prossima per chi soprattutto in questo tempo soffre il dolore della malattia del lutto e dell'indigenza economica preghiamo Padre della vita ascoltaci nella nostra preghiera ci uniamo al ringraziamento che Maria Rosaria e Leonardo vogliono rivolgere al Signore per i 25 anni di matrimonio trascorsi insieme e preghiamo perché possano continuare in questa loro unione secondo il disegno e il progetto che il Signore ha su di loro per questo preghiamo Padre della vita ascoltaci preghiamo anche per tutte le famiglie a volte ferite ferite da discordie ferite da disunioni ferite da separazioni ferite di tanti generi di tante difficoltà perché sia comunque presente in tutti il desiderio di volere formare comunità formare unione formare la comunità di amore e di dono per questo preghiamo Padre della vita ascoltaci nella nostra preghiera ricordiamo i defunti in particolare oggi vogliamo pregare per Armida per Cabrera Castro Fernanda per la porta Angela Marelli Francesco per Nicotera Caterina Cummo Gaetano per Michele Grazia Pasquale Edele e Terry per tutti loro preghiamo Padre della vita ascoltaci preghiamo per Zara Cosimo e Rosanna per Bertolotti Giuseppina e Fregonara Francesco per Gabbia Giuseppe nel quinto anniversario per Ciconte Cecilia per loro preghiamo Padre della vita ascoltaci e mentre ci uniamo all'intenzione di una persona che chiede di pregare secondo le sue intenzioni ci uniamo presentiamo al Signore le nostre intenzioni qui noi che siamo qui in Chiesa e tu che ci segui da lontano per questo preghiamo Padre della vita ascoltaci O Padre che operi sempre per il nostro bene accogli ed esaudisci le preghiere che ti abbiamo rivolto per Cristo nostro Signore ogni uomo semplice porta in cuore e un sogno con amore ed umiltà potrà costruirlo se con fede tu saprai vivere humilmente più felice tu sarai anche senza niente se vorrai ogni giorno con il tuo sudore una pietra dopo l'altra alto arriverà preghiamo perché questo nostro sacrificio si è gradito a Dio Padre Onnipotente ci vanno le due mani in questo sacrificio all'ode gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa accogli o Signore il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento la nostra opera la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore Amen il Signore sia con voi e con il tuo spirito in alto i nostri cuori sono rivolti al Signore rendiamo grazie al Signore nostro Dio e cosa buona e giusta e veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te Signore Padre Santo Dio Onnipotente ed Eterno nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto eccetto il peccato la nostra condizione umana così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in lui servo obbediente hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato per questo mistero di salvezza uniti agli angeli e ai santi cantiamo esultanti la tua lode Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo i cieli e la terra sono pieni della tua gloria benedetto colui che viene nel nome del Signore Hosanna 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 nell'alto dei cieli Hosanna 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 nell'alto dei cieli veramente santo sei tuo padre fonte di ogni santità ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo egli consegnandosi volontariamente alla passione prese il pane e rese grazie lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi allo stesso modo dopo aver cenato ho preso il calice di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti di remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede tu 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 ci hai il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degli di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendi la perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettile la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio. San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi, che ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Il Signore ci ha pensato famiglia, il Signore ci ha pensato comunità. Sentiamoci la comunità radunata nel nome di Cristo. E insieme con Lui preghiamo il Padre Comune. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Metti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amén. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compie la beata speranza. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. Donale, unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amén. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. E la pace che il Signore ci dà, portiamola nelle nostre case, portiamola nelle nostre famiglie, portiamola tra le persone che giorno per giorno incontriamo. Agnello di Dio Ecco l'Agnello di Dio. Ecco l'Agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati. del mondo, beati gli invitati, alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua Mensa. Adi soltanto una parola e io sarò salvato. Nel mare del Silenzio, una voce salzò, da una notte senza confini, una luce brillò, dove non c'era niente quel giorno. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo. Avevi scritto già la mia vita insieme a te, avevi scritto già di me. E quando la mia mente fece splendere le stelle e quando le tue mani modellarono la terra, dove non c'era niente quel giorno, avevi scritto già la mia vita insieme a te, avevi scritto già di me. E quando hai disegnato le nubi e le montagne e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, l'avevi fatto anche per me, avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo. Avevi scritto già la mia vita insieme a te, avevi scritto già di me. Mова Vissere Per coloro che per mille motivi non si sono accostati al sacramento della comunione per coloro che magari seguendoci da lontano non ne hanno l'opportunità leggo la comunione spirituale Gesù mio credo che tu sei nel Santissimo Sacramento ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia poiché ora non posso riceverti sacramentalmente viene almeno spiritualmente nel mio cuore come già venuto io ti abbraccio e tutto mi unisco a te non permettere che io mi abbia mai a separare da te e adesso facciamo una preghiera di benedizione per Maria Rosaria e Leonardo che vogliono riscambiarsi gli anelli ricorrendo il venticinquesimo anniversario del giorno in cui mediante il sacramento del matrimonio congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare perché la Divina Grazia vi confermi nel santo proposito rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica Signore benedici questi anelli inunziali gli sposi che li porteranno custodiscano integra la loro fedeltà rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore e facciamo loro un applauso preghiamo Concede a noi Padre Onnipotente inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita e li vive regna nei secoli dei secoli Amen e concludiamo con la bendizione all'urna di San Leonardo Murialdo Ti ringrazio O mio Signore Per le cose che sono nel mondo per la vita che tu ci hai donato per la gioia che fai crescere in me Alleluia Alleluia O mio Signore Alleluia O Dio del cielo Alleluia Alleluia O mio Signore Alleluia O Dio del cielo Il Signore sia con voi e con il tuo spirito Per l'intercessione di San Leonardo Murialdo che benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen La Messa è finita andiamo in pace Rendiamo grazie a Dio Buona Domenica a tutti Grazie Quando il cielo si tinge da turro io ti penso e tu sei con me non lasciarmi cadere nel buio nelle tenebre che la vita ci dà Alleluia O mio Signore Alleluia O Dio del cielo Alleluia O mio Signore Alleluia O Dio del cielo Grazie per averci seguito Iscriviti se vuoi al canale Torna a visitarci Arrivederci 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 Arrivederci